Buonasera e benvenuti a questa puntata di Instant Book, idee scritture per il futuro. Oggi è puntata anomala perché non abbiamo una scrittrice, non abbiamo un editore, ma abbiamo una persona complessa che è Tina Cè, Tina Centrone in arte Tina Cè, che oltre ad avere una scuola di ballo a Castellana che si chiama Havana Loca, è anche una sarta, nel senso che cuce, produce autonomamente, quindi sartoria artigianale, di questo stiamo parlando, costumi e costumi da ballo. Ecco sì, hai utilizzato questo termine proprio anomalo perché un attimino fa parte di tutte le mie attività che nascono un attimino dal nulla, ecco, e quindi io ho iniziato a cucire sin da piccola e ho realizzato sempre delle cose per me. Ti ha insegnato qualcuno il mestiere Tina? Eh sì, perché c'è una piccola storia da raccontare per quanto riguarda l'inizio e quindi gli esordi sul mio cucito, è che sin da piccola sono stata una ragazzina molto vivace e quindi i miei genitori hanno deciso di mandarmi, tra virgolette, a lavorare ed era un'amica di mia madre che faceva la sarta. Quindi mia madre mi diceva, andrai a lavorare. In palera è un mestiere. Sì, e io ero contentissima perché comunque mi piaceva e da alcuni pezzi di stoffa, da un ago e da un filo iniziavo a realizzare delle cose. Ecco, avevo proprio sei anni, ero piccolissima. Poi io comunque ho studiato, sono andata a scuola, ho un diploma in scuola magistrale, però quando ho finito con gli studi mi sono dedicata diciamo in maniera un po' più approfondita al settore del cucito perché ho lavorato per alcune aziende e per diversi anni. Quindi ne hai fatto una professione, diciamo dalla vocazione tu hai fatto, hai tirato fuori una professione. E' stata proprio una professione perché comunque quando mi presentavo nelle aziende ecco dicevo che sapevo fare un po' tutto e quindi le aziende mi prendevano a lavorare e quindi in quel momento imparavo perché ovviamente non tutti sono disponibili ad insegnarti un lavoro ecco e quindi io cercavo. Così come non tutti sono disponibili a imparare un lavoro. Eh sì sicuramente, io avevo tantissima voglia di farlo e quindi mi proponevo come così come una persona che sapeva fare un po' tutto e in quel momento iniziavo a capire come fare e soprattutto questo diciamo è il mio slogan, sbagliando ho imparato realmente a realizzare un abito dal nulla. Tina quando hai, parliamo della danza adesso, poi torniamo alla sartoria che è l'argomento centrale di questa puntata. Ecco stiamo vedendo delle immagini, dei filmati. Sì questa sono io. Questa sei tu che balli durante una serata. In versione ballerina, sì. Quindi tu hai una scuola di ballo a Castellana dove ovviamente organizzi dei corsi e degli spettacoli, giusto? Eh sì, ci sono alcune lezioni, trattiamo diverse discipline e organizziamo spettacoli, eventi e quindi mi esibisco da sola con un gruppo di ragazze che mi seguono e la cosa particolare per me è appunto ballare e realizzare queste coreografie con degli abiti realizzati da me. Quindi questo abito qui che è bellissimo peraltro l'hai realizzato tu? Sì è uno dei tanti vestiti perché comunque organizzando anche sfilate ho la possibilità di indossare più vestiti diciamo di diversi colori, diversi modelli che non sono disegnati. Ecco la cosa che magari volevo dire è che questi abiti non vengono disegnati, poi realizzati su modello, su carta e poi su tessuto. In realtà questi abiti nascono... Quindi sono tutti pezzi originali. Sì sì, direttamente dal tessuto, da una mia idea nasce l'abito e siccome di fantasia ne ho tantissima e mi piace creare, sono una persona... E lo tagli addosso alle tue ballerine. Sì sì. E a te stesso ovviamente. Senti Tina, la difficoltà di fare sartoria, io ho una famiglia per metà che viene dalla sartoria, ho delle zie che lavorano per alcuni negozi, fanno i lavori minimi di sartoria perché non c'è più mercato per la sartoria artigianale in Puglia, cosa che invece non è così per esempio in Campania, dove c'è una forte tradizione sartoriale come la scuola napoletana. La difficoltà di fare sartoria, nel tuo caso, è una sartoria per te, è quasi di autoconsumo, però è per lo spettacolo, forse è inferiore rispetto alla sartoria familiare? Eh beh sì sicuramente, io negli anni in cui ho iniziato a lavorare diciamo erano comunque richieste ragazze che sapessero cucire, che sapessero realizzare, che sapessero fare più cose... Le asole che mi dicono tutti che sono difficilissime a fare... Perché comunque ci sono diversi macchinari e diversi ruoli da sostenere in queste aziende e comunque io ho vissuto diciamo tra virgolette il declino di queste aziende perché io lavoravo e stavo benissimo, ero molto felice di lavorare in queste aziende e poi magari man mano le aziende andavano avanti con difficoltà... Ma lavoravi nel tuo comune? Sì sì a Castellana. A Castellana, quindi c'era un indotto? Poi soprattutto intorno al mio comune, tra Castellana, Putignano, Conversano, Polignano, c'erano tantissime aziende che realizzavano proprio abiti da bambino, uomo, donna e che diciamo hanno chiuso proprio magari a causa della crisi e quindi hanno un attimino chiuso e ci siamo ritrovati diciamo... Quindi quello che è accaduto a Barletta con le scarpe così come in provincia, nel distretto delle scarpe, lo stesso anche nel tuo comune. Quindi diciamo mi sono un attimino salvata, diciamo la mia anomalia mi ha salvato perché... Hai dovuto inventarti il mestiere. Sì ho dovuto inventarmelo e dovevo dire di riuscire a fare degli abiti anche quando magari non ci riuscivo e sbagliavo, sbagliavo, magari cercavo il sistema di risistemarli, li facevo per me, li sbagliavo, ho rovinato tantissimi i miei abiti pur di sistemarli però poi alla fine ci riesco. Confezioni abiti soltanto per le tue sfilate, cioè per le tue serate o per la danza oppure fai anche altro? Ecco no, io faccio anche altro, nel senso mi dedico agli abiti per quanto riguarda la danza anche perché comunque realizzando coreografie con più persone bisogna realizzare anche gli abiti. Organizzando gare, eventi, comunque ci si fa l'abito e lavoro quindi anche per quanto riguarda la danza. Però comunque il mio estro fa sì che comunque realizzi anche degli abiti per semplici eventi, feste, diciamo per andare in discoteca a ballare. Ti chiamano? Eh, tante persone mi guardano perché vedono comunque dei modelli diversi, no? E quindi dicono ma dove troverà mai questi abiti questa ragazza? Perché magari... Quando cercano l'etichetta non la trovano. Eh sì perché tanti magari non riescono a credere... Ecco, un'altra serata, qui dove sei in discoteca. Sì, questa è una discoteca a Bari, è una serata caraibica e qui sto ballando un ciaccia. E questo però appunto è un modello che ho realizzato. Sempre senza modello, non l'hai disegnato, cioè hai tagliato direttamente la stoffa e l'hai cucita. Dal nulla, sì. Poi creo anche gli abiti in base ai movimenti che bisogna fare. Perché quello che spiego alla gente che viene a chiedermi un abito è proprio questo. E cioè andare da una sarta, che magari è bravissima a fare il suo mestiero e lo sa fare molto meglio di me. Però una sarta che non ha mai ballato e quindi non comprende le esigenze di un ballerino. Che non sa neanche come prendere le misure. Ecco sì, magari è diverso rispetto a me. Che ampiezza dare, quale tessuto utilizzare, se è più elastico o meno. Sì, che diciamo so ballare e comunque di esperienza ne ho tantissima in questo campo. Ecco so consigliare al meglio quello che potrebbe essere un modello e un vestito specifico per una persona. Hai collaborato con altre sarte? No, non ho mai collaborato con altre sarte. Ma ci hai provato e non è andata male? No, sinceramente alcune sarte, diciamo tra virgolette, a volte mi capitano degli eventi un po' spiacevoli. Una sarta che magari avrebbe voluto il mio posto, perché in quel periodo stavo realizzando veramente tantissimi vestiti per una scuola di ballo. Ecco, iniziamo un attimino a criticare i miei modelli. Vabbè, t'ha visto come una competitor. Eh sì, perché magari di sarte giovani ce ne sono, ce ne sono tante, sono veramente brave, però non ce ne sono più tante. E quindi è rimasta una categoria di sarte che è un attimino, tra virgolette... Sì, legata un po' alla tradizione. Sì, legata alla tradizione. Quindi vedere una sarta che cuce come me, su un pavimento, per terra, con una forbice, riesco a realizzare dal nulla al nulla. Quindi magari dà anche un po' fastidio chi magari ha studiato da anni e quindi realizza le cose su carta, su modello, con molta più calma. Tina, chiudiamo qui questa prima parte della puntata di Instant Book. Nella seconda parleremo di eventi, di come tu improvvisi artisticamente e creativamente, come ti sei improvvisata creativamente artista dell'abito. A tra poco! A tra poco!